È stata una formula molto interessante ed efficace quella scelta dall'Istituto Tecnico Agrario Statale Cuppari di Alanno per far conoscere la propria offerta formativa agli studenti delle scuole secondarie di primo grado alle prese con la scelta della scuola superiore da frequentare. Uno degli appuntamenti degli Open Day dell'Istituto guidato dalla dirigente Maria Teresa Marsili ha visto impegnati gli alunni del Cuppari e i loro insegnanti nell'illustrare praticamente le attività che vengono svolte nei laboratori. Si tratta di un progetto di Open Day che abbiamo chiamato Menti in fermento. Il concetto del fermento è molteplice nel senso che vuole essere uno stimolo per loro ma giustamente vedono anche tutti i processi di analisi e di fermentazione all'interno dei laboratori della scuola. Ci troviamo nel laboratorio di microbiologia ma questo gruppo di ragazzi che sono ragazzi di scuola secondaria di primo grado avrà modo di visitare anche gli altri laboratori di chimica, di biologia e sala panel test dove guidati dai ragazzi più grandi di classe quinta e di classe quarta e ovviamente dai docenti, dagli assistenti tecnici e dagli ITP avranno modo di effettuare una serie di esperimenti. Il percorso didattico si articola in cinque anni con un biennio comune ed un triennio con tre indirizzi di aree di approfondimento, produzione e trasformazioni, gestione dell'ambiente e territorio, viticoltura ed enologia. Il diplomato in agraria, agroalimentare e agroindustria ha competenze nel campo dell'organizzazione e della gestione delle attività produttive e valorizzative del settore con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell'ambiente. Interviene in aspetti relativi al territorio con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici e nell'istituto si consegue anche il diploma di perito agrario.